Musica Bentornati al consueto appuntamento con 20 minuti veneti. Oggi la nostra rubrica di approfondimento si occuperà di salute. Ed abbiamo invitato ospite in studio il direttore generale della USL numero 10, il dottor Carlo Bramezza. Benvenuto dottore. Buongiorno. Bene. Allora, salute del cittadino in primo piano. Infatti l'abbiamo messo come titolo di questo appuntamento che speriamo possa diventare un appuntamento fisso soprattutto perché la salute dei cittadini è una priorità per la USL numero 10 come più volte ribadito tramite il vostro addetto stampa. Ma vorrei iniziare con quello che potrebbe essere definito un tormentone volendo usare uno degli aggettivi, dei nomi che vengono usati spesso per le cose che ritornano che potrebbe anche essere utilizzato invece un termine come confusione che è quello dell'ospedale unico perché tantissime cose si sono sentite su questo ospedale unico e tantissime volte anche la nostra emittente si è occupata di questo e ha sentito i pareri e il parere suo, i pareri dei sindaci e ritorna alla cronaca di ieri ancora una volta all'ospedale unico. Quindi vorrei con lei cominciare a fare un po' di chiarezza su che cosa accadrà con l'ospedale unico. Ma innanzitutto vorrei non chiamarlo ospedale unico ma vorrei chiamarlo il nuovo ospedale del Veneto orientale. Una struttura di grande eccellenza, una struttura dove i nostri cittadini finalmente possono trovare tutte le risposte di salute di cui hanno il diritto di avere qui nel proprio territorio. In questo momento la commissione tecnica nominata dalla conferenza dei sindaci ha presentato il suo risultato un lavoro molto corposo, è stato visto la settimana scorsa dall'esecutivo della conferenza dei sindaci e la prossima settimana verrà presentato all'intera conferenza dei sindaci. Noi come azienda il nostro lavoro l'abbiamo fatto, adesso aspetta la politica e i sindaci prendere una decisione. I sindaci all'unanimità per due volte hanno approvato, la prima volta all'unanimità, la seconda volta a dire il vero con l'estensione di un sindaco perché era in scadenza di mandato, così ha motivato, hanno votato per il nuovo ospedale del Veneto orientale abbiamo fatto la commissione di cui hanno partecipato componenti sia esperti sia dell'azienda sia della regione Veneto hanno presentato questo documento e adesso aspetta la politica prendere una decisione. Bene, quindi fatto chiarezza su quello che accadrà insomma, teniamo conto che è una scelta dovuta in base anche alle nuove schede sulla sanità che sono state approvate dalla regione del Veneto che prevedono infatti l'istituzione di un ospedale ogni 200.000 abitanti. Uno ogni 200.000 abitanti. In un primo tempo era previsto, la regione aveva previsto di mantenere i due presidi ospedalieri di San Dona e di Portogruaro, uno che diventasse il polo medico e l'altro il polo chirurgico. Siamo stati noi con i primari dell'azienda, con i nostri operatori, col collegio degli infermieri a dire che questa situazione non sarebbe stata l'ottimale per garantire una sanità di eccellenza. L'abbiamo discusso con i sindaci e tutti insieme siamo andati in regione a chiedere alla regione di modificare quelle schede prevedendo di creare un nuovo ospedale nel Veneto orientale. Tutti assieme abbiamo chiesto questo alla regione, la regione ha accolto questa nostra richiesta, questa richiesta presentata dalla comunità attraverso i suoi sindaci, attraverso tutti coloro che lavorano all'interno dei presidi ospedalieri. La regione ha accolto questa richiesta e ha demandato alla conferenza dei sindaci, come è giusto che sia, quindi alla politica locale, di decidere dove. Bene. E rimaniamo sempre nell'ambito ospedaliero e nei servizi che l'ospedale offre. Di oggi un comunicato stampa da parte del governatore del Veneto, Luca Zaia, il quale si complimenta con l'operato dell'Asl numero 10 del direttore Carlo Bramezza per quanto riguarda pediatria. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori che cosa sta accadendo, questo servizio che viene allargato anche? Viene allargato anche alla popolazione del litorale, perché in questi, nel periodo estivo, la nostra che diventa l'azienda più grande a livello europeo come presenze di turisti, 16 milioni e mezzo di presenze turistiche, abbiamo molte famiglie e molti bambini che vanno al mare e hanno bisogno di un pediatra. Quindi prevediamo che per alcuni pomeriggi a settimana, le domeniche, il giorno di ferro agosto, vi sia uno dei nostri pediatri dei presidi ospedaliari di San Donaio e di Portoguaro presente con un ambulatorio all'ospedale di Jesolo per dare ai bambini e quindi alle famiglie una maggiore tranquillità per tutto il periodo delle vacanze. È un bel servizio, Jesolo sta veramente, stiamo facendo veramente un ottimo lavoro perché sta diventando quello che le nuove schede prevedono, cioè un ospedale della riabilitazione. Stiamo già lavorando in questo, lo stiamo riamodernando, stiamo facendo anche molti lavori e oltre che a Jesolo garantiamo un servizio di urgenza ed emergenza per il litorale che ci viene invidiato, tra virgolette, in tutte le località turistiche d'Europa. Bene, ricordiamo tra l'altro che il servizio di pediatria che viene allargato come orari eccetera segue ad un altro servizio che durante i mesi scorsi ha avuto grande successo quello dell'apertura all'utenza di radiologia durante gli orari serali, prefestivi, festivi. Ha avuto un grandissimo successo anche nella nostra azienda, l'apertura è stata chiamata degli ospedali di notte cioè l'apertura degli ospedali di sera per prestazioni specialistiche nelle ore serali e il sabato e la domenica. I cittadini hanno dimostrato di gradire moltissimo l'iniziativa e il tasso di occupazione delle visite specialistiche, il sabato, la domenica e i serali è stato del 98%, quindi un grandissimo successo. E questo devo dire grazie ai nostri medici che hanno dato la disponibilità di venire a lavorare anche il sabato e la domenica. Penso che sia un ottimo servizio anche perché i cittadini così hanno la possibilità di fare le visite o accompagnare i genitori, i nonni a fare le visite in giorni senza doversi prendere un giorno di ferie. Tante volte sappiamo che è difficoltoso e questo comunque non crea un peso per chi è lavoratore dipendente che sia nel pubblico o nel privato. E poi meno traffico, meno affollamento negli ospedali, nelle ore di punta e quindi è un buon servizio e i cittadini hanno gradito molto. Bene. Lei prima vi parlava della medicina turistica di Jesolo eccetera. Ci sarà in questi giorni proprio una grande manifestazione per far conoscere all'utenza i servizi del pronto soccorso proprio a Jesolo. Sì, vi saranno tre serate in piazza Marconi a Jesolo in cui il nostro servizio di urgenza ed emergenza del dipartimento aziendale con il pronto soccorso di Jesolo in particolare saranno in piazza, in piazza Marconi a Jesolo per far vedere alla gente dei filmati, delle buone pratiche per chi va al mare, delle situazioni di pericolo da evitare e cosa fanno i nostri operatori del pronto soccorso, i quali lavorano tantissimo in questo periodo ma sono sempre pronti. Quest'anno sono stati attrezzati anche con una nuova ambulanza, hanno nuove attrezzature, vi è un secondo medico al pronto soccorso durante tutta la settimana e nel periodo estivo, il sabato e la domenica avremo tre medici al pronto soccorso proprio per dare un servizio ottimale ai residenti e a tutti i turisti. Ecco, questo è importante perché ricordiamo che l'Auslo numero 10 ha anche tanti presidi ospedalieri, tanti pronto soccorso proprio nelle spiagge, quindi durante l'estate il lavoro si diventa davvero tantissimo. Rimanendo al pronto soccorso, direttore, pronto soccorso in prima linea e purtroppo in questi mesi estivi si trova a dover affrontare un'emergenza che è quella dell'abuso da parte dei giovani di sostanze stupefacenti di nuova generazione. In questi giorni la cronaca appunto riporta una giovane ragazzina che a sua insaputa ha bevuto una bevanda che conteneva una sostanza psicotropa, queste nuove sostanze e ha dimenticato tutto quello che è successo ed è stata violentata. Quindi un'emergenza per i medici del pronto soccorso che si sono già adoperati con un convegno importantissimo tenuto sia a Jesolo alcuni mesi fa. Addirittura c'è stata una visita studio da parte dei medici della Croazia per conoscere proprio l'attività del pronto soccorso riguardo all'allerta, all'emergenza sostanze stupefacenti di nuova generazione. Sì, abbiamo un servizio che è attrezzato proprio per affrontare questo tipo di emergenza, cioè il problema delle droghe sintetiche, cioè quelle droghe che costano poco, che cambiano le molecole continuamente, per cui cerchiamo, abbiamo questi ragazzi che arrivano al pronto soccorso che bisogna innanzitutto capire di che sostanze si sono fatte. Abbiamo un sistema per cui ci permette di riconoscere velocemente questo e quindi di attuare le terapie più adeguate. Però non vorrei neanche lanciare degli allarmismi, è un fenomeno che noi sentiamo di più in questo periodo ovviamente sul litorale perché abbiamo una maggiore aggregazione di giovani e quindi ci attrezziamo logicamente a farlo. Però non vorrei lanciare allarmismo perché non vi è un aumento dei dati che mi sono stati serviti, mi sono stati dati proprio oggi dal mio servizio, dal servizio del CERD, delle dipendenze, non vi è in generale un aumento di casi rispetto agli anni scorsi. Diciamo che vi è questo nuovo tipo di droghe pericolose perché non sono facilmente riconoscibili. Noi abbiamo un ottimo servizio di pronto soccorso, collaboriamo con il Centro Nazionale Antidroghe, con il Dipartimento Antidroghe Nazionale, con il Centro di Pavia, con i RIS di Roma che si occupano appunto di questo tema, collaboriamo attraverso una rete di informazioni e di individuazione poi delle terapie in maniera quasi immediata che ci permette di affrontare subito l'emergenza. Sicuramente non allarmismo ma diamo l'appello ai giovani che facciano attenzione, come è stato detto anche nella conferenza stampa di alcuni giorni fa al Mervi e la Iesolo da parte dei medici del pronto soccorso, perché queste nuove droghe sono davvero dannose per il sistema. Sì, diciamo che stiamo con il comune di Iesolo, perché il comune è maggiormente interessato, ma anche con gli altri comuni, con le forze dell'ordine e anche con chi gestisce i locali, la movida diciamo così, serale, stiamo cercando di individuare anche delle nuove strade per far conoscere ai giovani questi pericoli, per allontanarli da questo mondo, per far capire loro che il divertimento è altro. Stiamo collaborando bene, una delle cose che più mi ha stupito in senso positivo assumendo questo ruolo di direttore generale di questa azienda è che proprio nel periodo estivo tante istituzioni, l'azienda sanitaria, i comuni, le forze dell'ordine, si mettono tutti insieme per permettere a milioni di persone di fare una vacanza bella, serena e sicura. E questo vuol dire che nel nostro paese ancora le istituzioni funzionano bene. Certo, lei ha parlato di vacanza, quindi io rimarrei in tema visto anche la stagione estiva. Diciamo che la ASL numero 10 è un'azienda sanitaria all'avanguardia perché già l'anno scorso è partita una app, adesso si chiamano così, insomma per chi mastica bene queste nuove cose digitali, sono delle applicazioni che si possono scaricare sul proprio telefonino, smartphone, e quindi già partiva l'anno scorso l'app Vacanze in Salute e è di quest'anno invece una nuova app, iCoop Mobile, quindi un'azienda sanitaria all'avanguardia, pronta anche con la tecnologia, attenta a quelli che sono i nativi digitali, quelli che smanettano tutto il giorno, direttore. Ci si può prenotare una visita specialistica nella nostra azienda attraverso il telefonino, non bisogna più fare le code al CUP e io invito soprattutto i giovani a farlo anche per i nonni, per i loro genitori che magari hanno meno dimestichezza di usare il telefonino, ma è facile e se il nonno, il papà deve prenotarsi una visita specialistica, il figlio, il nipote con il telefonino può facilmente farlo. È una cosa molto semplice, i giovani lo sanno fare benissimo e questo evita code, evita perdite di tempo, evita di dover prendere la macchina e siamo la prima azienda sanitaria in Veneto che ha questo tipo di servizio e credo la seconda in Italia, quindi è un'azienda all'avanguardia in questo settore. Ecco, direttore generale, io vorrei anche sfatare quella che è un'informazione a volte sbagliata, perché ero presente alla conferenza stampa ed ho visto in diretta la prenotazione di un esame che prevede tempi davvero brevi, perché abbiamo visto in base a ciò che il medico generale prescrive nella ricetta, veramente c'è in pochissimi giorni, anche in 24 ore, riusciva ad avere un appuntamento. Sì, sì, perché noi riusciamo a garantire, e qua ringrazio tutti i collaboratori del CUP, riusciamo a garantire tutte le visite specialistiche nei tempi di attesa che sono previsti dalla normativa regionale. È chiaro che a volte i tempi di attesa possono sembrare lunghi perché il cittadino vuole fare la visita senza doversi spostare. Esempio tipico, se il cittadino residente a Iesolo vuole assolutamente fare la visita a Iesolo, è chiaro che avrà tempi magari di attesa più lunghi, ma se andasse, che so io, a San Donau o a Portogruaro, potrebbe farli in tempi molto minori. È difficile garantire le visite nei tempi ristretti, nel posto dove vuole il cittadino. È chiaro che bisogna un po' spostarsi, almeno all'interno dell'azienda. Però riusciamo a garantire le visite specialistiche, cosa che fino a qualche anno fa non riuscivamo, nei tempi previsti e quindi in tempi relativamente brevi. E comunque quelle urgenti sicuramente nei tempi previsti dalla norma. Bene, tra l'altro vorrei ricordare che la USL numero 10 è stata presente alla Fiera di Roma sulle innovazioni digitali per quanto riguarda le aziende sanitarie, proprio grazie a questa iCupo Mobile, una delle novità. L'abbiamo presentata a Roma, appunto alla Fiera, ma siamo stati quest'anno a tante fiere, siamo stati anche alla Fiera del Turismo a Berlino, in cui abbiamo presentato il nostro modello in medicina turistica. In questi giorni a Iesolo ci sono 40 ragazzi di 4 università europee che stanno studiando il nostro sistema della medicina turistica. Abbiamo chiesto alla Regione Veneto di autorizzare all'US10 che sia capofila di un dipartimento interaziendale per tutte le US del litorale e della costiera veneta, 26 milioni e mezzo di presenze turistiche, 16 milioni e mezzo nella nostra azienda e altri 10 milioni circa nelle altre aziende che vuol dire sottomarina, chioggia, che vuol dire ovviamente cavallino tre porti, un dipartimento interaziendale per la medicina turistica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in futuro se la Regione accoglierà questa nostra proposta i turisti che vengono a fare le vacanze nella costa veneta avranno servizi uguali in tutto il territorio. Questo è molto positivo. Ho lasciato per ultimo questo argomento non perché meno importante ma perché volevo rimanesse impresso in seguito a questa nostra piacevole conversazione sulla salute del cittadino. Parliamo appunto di attenzione, il vostro obiettivo è la salute del cittadino che parte fin da adolescenti. Quando ci sono i primi disturbi alimentari magari riconosciuti subito o meno come l'anoressia, la bulimia, la ASL numero 10 fa molta attenzione a questo perché già durante l'inverno è stato fatto un convegno, un importante convegno a Porto Gruaro con tantissimi esperti parlando appunto di disturbi dell'alimentazione e adesso c'è anche una convenzione tra due regioni quindi Veneto e Friuli Venezia Giulia. Noi abbiamo un ottimo centro per la cura dei disturbi del comportamento alimentare a Porto Gruaro. È un centro di eccellenza e la Regione Friuli Venezia Giulia proprio in questi giorni ha firmato con la Regione Veneto una convenzione per poter far curare i loro ragazzi che soffrono di questa terribile malattia appunto nel nostro centro di Porto Gruaro. È un'ottima sinergia vuol dire che il confine tra le regioni non esiste nel senso che quando c'è da curare la gente si fa sinergia tutti quanti. Assolutamente, questo è molto importante, non ci sono campanelli da proteggere per quanto riguarda la sanità. Bene, direttore generale io la ringrazio per essere stato qui con noi, il tempo a nostra disposizione è volato, ritengo che la salute del cittadino sia davvero molto importante e la ringrazio per la disponibilità che ha sempre nei nostri confronti quindi la invito a ritornare, magari faremo un appuntamento fisso che possa essere utile. Quando volete io ci sono sempre, volevo permettermi di fare un ringraziamento e un augurio anche di buone vacanze a tutti i miei collaboratori, a tutti i 2500 dipendenti della nostra azienda e a tutti i nostri collaboratori esterni perché è gente veramente forte e in questo periodo che noi gli altri vanno in ferie noi invece lavoriamo di più perché dobbiamo appunto garantire l'assistenza anche ai turisti, però se qualcuno fa le ferie volevo da direttore generale augurare un bel periodo di ferie. Perfetto, la ringrazio direttore, ringrazio tutti voi per l'attenzione, ricordo l'appuntamento con la nostra rubrica 20 minuti veneti, sempre su questa emittente, la prossima settimana. Buona continuazione di programma. Grazie. Grazie.